Direttore Delbianco, tra ferie e malattie si è registrata nell'ultima settimana di dicembre una carenza di personale per quel che riguarda ambiente S.P.A. Saranno assicurati comunque con regolarità i servizi di pulizia in città oppure si deve parlare di emergenza? No, non si deve parlare di emergenza perché i servizi saranno tutti assicurati. Ci potrà essere qualche rallentamento, per questo chiediamo un po' di tolleranza da parte dei cittadini. Può darsi che una raccolta possa slittare nel pomeriggio, anziché la mattina, quindi quello che chiediamo è soltanto un po' di tolleranza. Se dovessero trovare dei cassonetti un po' pieni, al posto di buttare la spazzatura fuori dal cassonetto, chiediamo loro di mettersi alla ricerca del cassonetto più vicino che magari è semivuoto e può essere utilizzato per il conferimento. Possiamo fotografare in termini percentuali la carenza di personale in questo momento in ambiente S.P.A.? Sì, in questo momento noi abbiamo oltre 70 persone assenti su un totale di 270 operatori. Quindi diciamo che la mancanza è notevole. Però ci siamo organizzati per poter, un po' con lo straordinario, un po' richiamando le persone dalle ferie. Devo dire che insomma in parecchia hanno compreso e condiviso questa difficoltà. Il direttore del Bianco si sofferma poi su alcune novità che stanno interessando la città. Noi siamo già partiti con la riorganizzazione del sistema di raccolta porta a porta ai colli che interessa circa 15.000 abitanti. Su ai colli praticamente toglieremo tutte le postazioni di prossimità che erano anche un elemento di degrado ambientale. Poi ci saranno i condomini che lo vorranno, dovranno trovare un'area o privata o pubblica, attrezzarla con un recinto ben fatto e lì dentro possiamo mettere dei cassonetti che diamo noi. E loro possono utilizzare, solo quel condominio può utilizzare quella stazione ecologica che noi poi provvederemo a svuotare secondo i calendari definiti. In una città come Pescara in un anno quanti quintali, quante tonnellate di rifiuti produce? Allora Pescara produce e noi raccogliamo 70.000 tonnellate, che è un decimo di tutta l'immondizia che produce la regione Abruzzo. Dei 70.000 circa il 50% è raccolta differenziata e che porteremo al 65% con gli estendimenti previsti quest'anno e l'anno prossimo che riguarderanno, oltre alla riorganizzazione dei colli di cui abbiamo già parlato, riguardano anche Rancitelli e il centro.